Polizia, polizia Sicuramente, vergognatevi voi per me Se volete io no Esatto, comunque torniamo con un altro video che ci è stato richiesto Ah che bello, stiamo andando forte, da chi? Dalla mia migliore amica Veronica Oh Veronica, allora Veronica sei veramente una nostra fan follower accanita Video di action con noi, richieste, prossima cosa sarà? Speravo che non ci fosse solo lei, gli altri quanto pare sono troppo timidi a lasciarci commenti E va bene, facciamo così Comunque, per ora Non siamo troppo tristi No, per niente Sotto richiesta appunto di Veronica, grazie mille per averci fatto questa richiesta, ti ringraziamo Vediamo un altro video dei Monsta X Lei ama i Monsta X Si chiama Trespass Trespass Non so neanche cosa voglia dire È inglese, è una parola inglese, si può tradurre Cosa vuol dire? Io l'inglese lo so abbastanza, secondo me sembra più della fonetica francese Perché tres, tres, va bene, non importa, vediamo e basta Tre, due, uno, tre, spas L'11 maggio Vedo già pulizia 2015, ok, è abbastanza vecchio come video 2015 Sonu, John, Wono Mignocco, quello che piace a me Kiyo, Iam, Yangwon, quello che piace a Veronica Monsta X, ok Ah che figo il simbolo, è sia una M che una X Uh c'è polizia qui, qua ci si mena Fanno per lo più disco i Monsta X Grazie c'è ragazzi giovani O fanno rap e fanno un po' più dance Mi ricorda leggermente Nomo Jim dei BTS Che bello Mignocco, ti do anch'io baci Mignocco Ah quella lingua, queste lingue Ciao Mignocco Vanno tenute al caldo, dentro la bocca chiunque Do il bacino anch'io Mignocco Quanti giorni che ha segnato, da fronte che sono l'idea Eh 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 eh, wow Ma Scusate La sorella poi non regge, ha la sua età eh Schieto di darmi un infarto Cioè Che figlio c'è quello Era Mignocco, era Mignocco quello credo Credo fosse Mignocco Knock Knock Ok bussiamo, knock knock Ciao Mignocco Andiamo Ok sta troppo bene Biondo Mignocco però Con quel bacino starebbe bene con qualsiasi colore Ma questo qui è uno dei membri, non credo vero? E' uno stuntman Ma eh Cosa c'è? Non si scuro Nooo c'è un cane Adoro Eh credo stia scappando dal cane però Credo sia un cane poliziotto No allora non è così Uh hanno fatto la X con le braccia che figo Ma sta X hanno fatto la X con le braccia che figo Ciao lui è preferito di Veronica Mi piacciono le sue labbra Ma cosa c'ha quello nel cappello? Yongguan credo si chiama Ma cosa so quelle cose di che ha le corte? Treccine credo Sembrano capelli Finte come si Ah ok Ciao Mignocco quanto è bello X Quello con le treccine mi ricorda più dei Block B Mi sbaglierò eh Ciao Mignocco quanto è bello E' carino quello E' Mignocco è mio Il tuo Parliamone Oh c'è la parte lenta per poi ripartire di nuovo dance E questo? Oh si balla si balla Si balla si balla Con il pantale di luce? Eh si balla Mi piace mi piace E si balla Oh che carino Era carino quello lì Chi era? Ok Ciao Mignocchi non ridere questo non riuscire Sì, sono bravi a parlare Sì Scappiamo, scappiamo Perché stiamo scappando? Non lo so, è finito Non ho capito, perché stavano scappando? Ok, ragazzi ero troppo presa da farmi gli occhi con Mignoc che biondo è stupendo Però perché stavano scappando? Secondo me erano evasi e quindi ho visto che la polizia li stava arrivando Quindi scappo che è meglio Penso Comunque Non lo so Io ho capito che sono stati catturati all'inizio del video Sono andati in prigione, poi sono evasi, sono riusciti a scappare E la polizia li inseguiva Ma la domanda primaria è perché sono stati presi? Beh adesso chiedi troppo Sono stati presi E neanche da poco Perché comunque nella cella hai visto segnato tutte quelle lì che si vede che erano giorni che erano lì Perché l'altro X ho visto tante X Sarà stato per via del Monster X Comunque La canzone è carina Abbastanza ganza Molto carina Ganza! Oh mamma mia! Molto tranzolla Molto tranzolla Facciamo le bimbe minchia dai Oddio che t'amarda Facciamo le bimbe minchia dai Molto tranzolla Molto scialla Molto scialla proprio No Questa cosa è incommentabile Esatto E comunque la canzone è leggermente carina Ti rimane in testa Mi rimane in testa E la coreografia sembra molto carina Credo che mi vedrò qualche dance Practice o se c'è O performance Puoi vedere meglio la coreografia Ribadisco che il mio bias Resta mignoc Perché è troppo bello Soprattutto quando ride Però ce n'è stato un paio Durante la diretta Si può dire Che ho chiesto chi sono Se potete cercare In che minuto del video si trova Così mi dite come si chiama E per favore scrivetemi anche Il minuto del video Per capire qual è il ragazzo Così scopro anche i nomi Molto bene Perché erano scritte all'inizio Ma assolutamente non me li ricordo C'è un buono C'è un I.M. 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 Esatto I.M. E poi Mignoc Quello di pace a me Ce ne mancano un po' All'appello Quindi Sono tipo 6-7 Quindi Ricordateci Ricordateci i nomi Voi E la canzone è molto carina Il video Dai è abbastanza divertente Alla fine loro facevano Di scemi E via Allora per me è anche Passabile Come il precedente video Sempre dei Mosta X Non ha A quanto pare Non diventerò una fan Del Mosta X Perché non mi ha entusiasmato Neanche questa Carina La verità Carina Perché come l'altra Però da dire Bella Come in alcune altre Video reaction Absolutely not Però Si faceva ascoltare Si faceva molto ascoltare E quel biondino lì Mignoc Mignoc Sta catturando tutti Sto ragazzino Io conosco un altro Mignoc Che cattura Si vede che è proprio Il nome in sé Che cattura Che stai dicendo Perché esistono diversi Mignoc Tipo il mio Mignoc Gnocco E di B2B No Forse quello che intendo io Spero di Non sbagliarmi Nel caso Nel caso C'è un Mignoc C'è un Mignoc Anche lì C'è un Mignoc Quello mi piace Beh sì Diciamo che La stirpe Dei Mignoc Non lasciano Non Cioè voglio dire Ogni uscita È quella buona Mettiamola così Non c'è un intermezzo Dove viene Una schifezza No È un Mignoc È un nome È una garanzia Esatto Dopodiché ragazzi Allora Per ora Vi salutiamo Ringraziamo ancora Veronica Per averci Suggerito Un altro Quest'ennesimo Video Dei Monsta X Veronica Quanto pare Dato che sei L'unica o quasi Ti piace così tanto Suggerirci Cosa fare Fallo Così evitiamo Di cercare noi I video In rete Abbiamo chi lo fa per noi Esatto E almeno tu Almeno tu ci calcoli Perché Guarda A quanto pare Ci guardano Probabilmente ci guardano Solo per prenderci in giro E poi non scrivono i commenti E vabbè Possiamo avere tutto Dalla vita Cattivi Per ora Comunque vi salutiamo Cattivi Vi diamo appuntamento Alla prossima Con un'altra Video reaction Del N.V.O.L.S. Ciao Ciao